Questo video è in collaborazione con Fantasia Store che sponsorizza questo unboxing. Volete comprare carte di Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, Vanguard, manuali di Dungeons & Dragons, Funko Pop Box e quant'altro? Fantasia Store è il negozio che fa per voi prezzi competitivi, spedizioni veloci e se utilizzate il codice sconto Fieri5 avrete il 5% di sconto su ogni acquisto. Passate dal mio link affiliato che trovate in descrizione nel primo commento per darmi un piccolo supporto senza spendere un centesimo in più. Partiamo con la nuova espansione Incubo Fantasma, mi ricordo Yu-Bell quando è uscito, Phantom Darkness nel 2007, una carta leggendaria per me che era nell'anime quindi una carta leggendaria e pensavo fosse fortissimo, in realtà fa cacare Yu-Bell. Abbiamo un po' di buste varie di Guerra dei Giganti, vedete Fieri ma perché sto set? Perché sono un sacco di carte che mi servono per farmi dei mazzi gotte. Per variare un pochino, visto che ho spacchetto tutti i mesi, mi son detto spacchettiamo roba che non ho mai aperto perché c'ha un po' di carte che mi servono per i mazzi di gotte e così vediamo un po'. Abbiamo i due deck delle divinità egizie, macchine respingitrici, structure deck e imperatore d'oscurità. Abbiamo un po' di roba coreana, abbiamo Labyrinth of Nightmare, coreano, anno 2003, questo è stato il quinto set stampato e ci sono un po' di carte interessanti tra cui Tributo Torrenziale. Abbiamo Dark Beginning 2, qua vabbè è strapieno di carte, è forte per il gotte. Poi abbiamo un altro mazzo coreano, questo qua figo, con anche le buste di Yu-Gi, volevo provarlo. Poi abbiamo dei gadget fighi secondo me, qua sono 5000 pezzi questi in tutto il mondo ed è una collezione delle spille di Coribo, carine. Il gadget di una delle carte più iconiche di Yu-Gi o la Pot of Greed. Per finire, non sto a farvi vedere tutti ma abbiamo 8 di questi, collezioni leggendari 25 anni di anniversario. Perché ho preso questi e non ho preso i box? Perché qua dentro ci stanno una busta di ogni set di quelli ristampati per il 25 anni di anniversario. Hanno rifatto i box e tutti i set tranne Dark Crisis, quindi questo qua non c'è. E allora niente, ho dovuto prendere questi, ho preso i 8, vediamo cosa troviamo. Io inizierei da il nuovo set. Incubo Fantasma, abbiamo già una busta testa in giù, beh ottimo iniziare con questa e vediamo un po' cosa si trova. Allora, motociclista Goblin Boom Mack, Stranger Big Bang, Guardiano Oscuro, questo ha le stelle di tre partite GTA praticamente. Quante sono? 12 penso. Ricercatore del Tempo, Maestro Spettro Trus Nue. Abbiamo già trovato la Secret? No, non ci credo. Hanno fatto una ristampa di ultima offerta con un artwork che richiama quello originale dell'ossigie. Illusionista Ghoul Menestrello. Pesce Luna Bianco. Golem Trita, Tutto Jaste. Princi Carlino. Lotto D del Samsara. Questa riprende una carta bannata dai tempi. Raidratore Rosobillante. Miscella Roma. Storm Unito. Inseguimento drammatico. Teschio Guardiano, protettore della voce muta. Come può una voce essere muta? Patata mistica. Non ci credo ragazzi, non ritrende il pomodoro mistico. Voglio vedere adesso. Se questa carta sul termine di distrutta è effetto di una carta andata al cimitero, può cadere specialmente un mostro sconetta attacco a me? Ok, è letteralmente pomodoro mistico ma se viene distrutta da effetto. Voglio un deck fatto di pomodoro mistico e patata mistica. In cui un fantasma ha finito, ora passiamo alle cose belle signore e signori. Apriamoci una collezione leggendaria. Abbiamo come al solito le nostre carte che sono sempre le stesse, ormai ho perso veramente il conto di quante ne ho di queste. Bellina eh, per carità, però ci ho perso veramente veramente il conto. Re verde degli spettri. È un uomo a quanto pare, non lo sapevo. Piccolo drago. La prova dell'inco. Tartaruga tigre. Questa potrebbe essere l'olografica, è una magia. Potrebbe essere spade rivelatrici, mostro suscitato. Cura segre... Ah no, è l'ore dopo. Giallone, giallone... Oh, è un giallone. Giallone terra? No, il soldato celtico. Ah no, è una merda, non c'è niente, ok. Il Sangan, minchia, quanti ne ho di Sangan. No, un altro Gate Guardian, ragazzi. Un altro guardiano del cancello. Allora, non so cos'è citato perché l'ho trovato anche l'altra volta. Però, carta iconica, devastante, bellissimo, non c'è niente da fare. Oh, raga, di questo qua ne ho un miliardo. Sta a 5 euro l'una sta carta qua, ne avrò 10. Chat, voi volete che vi racconti anche un po' la lore delle carte, il perché son forti? Tipo questa qua. Allora, questa carta, punto prima ho pochissime stampe. E punto secondo è molto molto fa, io ovviamente parlo del formato GOAT, che è quello che gioco io ad oggi farebbe cacare. E il suo effetto è che fa danno perforante ai mostri in difesa e aumenta il suo attacco di 500 per ogni mostro che ha l'avversario. Viene giocata in combo con Trio Ojama, che è la trappola che piazza tre token Ojama nel campo avversario. Evochi lui diventa coi minimum 2300 che fa danno perforante. Come capite, diventa molto molto forte. Quindi viene giocata nei mazzi barn per questo motivo qua. Poi, attenzione, uno stellone! Il nonno! Eh, questa è pesante ragazzi. Qua si gode ragazzi, è una delle carte più forti di Yu-Gi-Oh! In assoluto, tuttora è giocabile perché nega praticamente qualsiasi mossa l'avversario pagando metà delle points. Il nonno va rispettato. Oh, Geerfried, dai ci sta! Magari un bel mazzo con Geerfried non è male. Lui è un guerriero 1008 e il suo effetto è che spacca in automatico qualsiasi carta che si equipaggia lui. È forte con alcune combinazioni, per esempio con Smoke Grenade, una magia equipaggianto che dice quando questa carta viene distrutta e mandata al cimitero, guardi a mano dell'avversario e scarti una carta. E quindi tu cosa fai? L'attivi equipaggiandola lui, lui la spacca, guardi a mano dell'avversario e scarti una carta. Fortissima. Shining Ain! Eccola qua. Una delle carte più costose in GOT, con più costose tipo 15 euro, 20 euro, perché non ha ristampe e ha tre stampe di cui due ultra e una secret, quindi costa tanto per questo motivo qua ed è una carta che va in tutti i mazzi. Ad oggi questa carta è bandita, il suo effetto è pagami life points, scarta una carta dalla mano avversario, poi il suo avversario scarta una carta. Ti riquesta per essere scarta due carte, sarebbe molto fastidio. Il Dragao do Trovao, ragazzi. Eccolo qua, il Drago del Tuono. Lui lo mettiamo da parte. Soldato Cannone. Anche questo lo mettiamo da parte. Mago della Fede è forte, esplicemente perché in gotte ci stanno delle magie che sono veramente troppo forti. Allora, salitore del Faraone. Vediamo un po' cosa trovare qua. E backup soldier. Qui si gioca nel mazzo Exodia, signore e signori, perché il suo effetto è quando ci sono 5 più mostri nel tuo cimitero. Scegli tre mostri gialloni con 1.5 meno d'attacco e ti aggiunge la mano. Quindi si gioca nel mazzo che ovviamente non è forte. Il mazzo Exodia, quando mandi pezzi al cimitero, poi te li prendi in mano. Eh! Oh! Oh! È pure super, non me lo ricordavo. Che bello. La volevo e l'ho ottenuta, ragazzi. Sono felicissimo. Io non sono uno di quelli che vuole farsi il mazzo olografico. Anzi, in genere me lo faccio più comune possibile. Però c'è, quando le spacchetto, io ci sta a mettere nel mazzo qualche carta olografica. Io il tipo la Lady ce l'ho soltanto comune. Questa qua è super rare, mi metterò questa. L'ho spacchettata io. Abbiamo un po' di structure deck perché, sinceramente, volevo aprire qualche mazzo. Non andrò a mentirvi perché ci sono carte che mi interessano da mettere nei mazzi e poi anche perché tanto non posso spacchettare sempre le stesse cose. Quindi ci sta aprire qualcosa di nuovo ogni tanto. E quindi vediamo un po' sti deck delle divinità egizie. Allora, abbiamo Slifer. Incrocio di anime. Attacco forza del tuono. Roba di Slifer. Cercatore del millennio. Divinità bestia finale. Tellus l'angelo piccino. Respingi melma. Spolverino dell'arpia. Molto carino, super. Allora, ragazzi, qui non so se avete un'idea ma ai miei tempi quando ho comprato lo structure deck a 15 euro c'avevi una ultra rara e basta. Cioè, quando ce l'abbiamo una, due, tre, quattro ultra e quattro super, ragazzi. Breaker di Guerrero Magico. Stepple assoluta. Rebestia Barbaros. Volpe a nove code. Spaccacelo Fantasmo. Guardate, cazzo. Robbe ambigue. Breaker lo scuro Guerrero Magico. Fantasmo Ispiratorio. Fattumi vari. Una bella spada rivelatrice. Il mostro citato che è bandito in gotta. Libro della Luna. Non male. Contro l'avversario. Fattumi vari. Una forza riflessa che non può mai mancare perché è la forza riflessa. Queste sono le carte che in gotta sono giocabili. Togliamo queste un po' meh. Queste sono super in meta. Qui invece abbiamo lo structure deck di Obelisk. Il tormentatore, a quanto paro. Una volta c'era Obelisco del Tiranno ma ci hanno cambiato il nome. Poi abbiamo Obelisk. Più meno c'ha le stesse carte dell'altro, giustamente. L'agile Momongo. È sempre lui. Pazui il mangianime. Questa qua ci la mette da parte per fare qualche bel mazzo. Cyber Drago che non si può giocare in gotta. Calice proibito. Questa qua si gioca in Edison. Non penso costi un cazzo. Io ce l'ho ultimate questa. Come lancia proibita. Abito proibito. Tutte le cose proibite sono carine. Richiamo del posseduto. Ne ho tantissime. La metto da parte lo stesso. Allora, beh, richiamo semplicemente resuscita un mostro. Contro la mente paghi 800 prendi un mostro scoperto avversario per un turno ti permetti di fare tante robette o prendi un mostro avversario lo picchi con quel mostro così l'avversario dice ci attivo sacquerezzo questo altrimenti no. E in main phase 2 lo tributi evochi un mostro e quindi lei ha detto ciao e Bazzu mangia anime. È forte in quelle combinazioni in cui il suo effetto è una volta aperto uno puoi bandire fino a tre mostre dal cimitero e lui guadagna 300 punti attacco per il mostro bandito fino all'end phase dell'avversario. Perché è forte questa carta? Perché è forte in combinazione con le carte che evocano i mostri banditi capito? Quindi fusione dimensionale e ritorno da un'altra dimensione. Curibbo pin page set è letteralmente il set delle spille di Curibbo. carino basta così mi andava ci sta lo metterò nella mia collezione. Ah vediamo un po' ste macchine spingitrici con genio in granaggio antico drago respingi in granaggio antico idra in granaggio antico viverne in granaggio antico catapulta in granaggio antico drago galgildo in granaggio antico il grande il golem chimera bestia ingegnere cavaliere poi c'era soldato soldato rimozione di limite questa qua mi serviva per un mazzo però vabbè creazione macchina ciclone galattico terraforming anfora dell'avarizia dispetto degli ignomi segna in granaggio antico io ho preso sto ecco per questo no sto scherzando però allora poi abbiamo in petrolio oscurità questo strutture ecco che è gigante ragazzi in quanto gli altri non so per quale motivo sia così enorme allora questo l'ho preso perché è pieno di monarchi all'interno Eter il monarca celeste mai sentito Caius il monarca dell'ombra Zaborg Granmar Mobius Tessalus Raiza le abbiamo tutti ragazzi abbiamo tutti i monarchi tutti i monarchi questi due in got non esistono qui ci sono questi altri quattro e di questi quattro si giocano questi due vabbè ci sta e niente poi cosa abbiamo ah questo l'ho fatto vedere prima abbiamo il portachiavi della pot of greed poi qua abbiamo 12 buste di guerra dei giganti se non ho sbagliato qui dentro dovrebbero esserci un bel po' di carte vecchie che potrebbero servirmi a fare i mazzi e vedendo questo Ghilasaurus penso averci preso più o meno ecco diciamo che ci ho preso più o meno in realtà le carte buone ci sono e infatti serpente sinistro eccolo qui dice beh dove sta le carte buone in got questa qua hanno dovuto farci un'errata perché era fortissima did assailant ottimo forza attacco goblin sburato mi aveva fatto molto piacere trovare una charity sepoltura prematura con sta scritta strana builder razzo colpo big bang oh finalmente in italiano ce l'ho questa carta pure è un po' una tech nel senso non è una carta in meta però il suo effetto è l'occupaggio un mostro il mostro guarda a 400 attacco fa danno perforante e se questa carta viene rimossa dal terreno quindi spaccata rimessa in mano eccetera bandisce il mostro che equipaggiato quindi in combo con tempesta potente o meglio ancora con ritorno totale che è la magia che riporta in mano tutte le magie trappole sul terreno tu lo puoi equipaggiare un mostro d'avversario fai il ritorno totale che torna in mano e per il suo effetto bandisce il mostro che equipaggiata poi abbiamo questa edizione speciale questo in realtà è un deck questo di fatto coreano perché io trovo che le carte coreano siano molto estetiche cioè esteticamente sono molto molto belle a parte queste devono essere le classiche carte da gaming che con slifer abbiamo sto cosa non so cosa sia quello dell'anime manda pegasus un token generico il bls originale il bls del got il mago nero la maga nera teschio evocato pezzi di exodia che non possono mai mancare carino questo coribo mi piace peccato che sia ripiegato come spada riveatrice molto belle gaia the dragon champion e queste sono le carte olografiche quelle comuni invece sono rigide perfette queste sono versione banana invece cross of dragon vabbè questo è il mazzo di yuki ragazzi quello che gioca nell'anime no manca zanna d'argento attenzione dov'è zanna d'argento stiamo scherzando vabbè pelli magi letteralmente questo è il deck dell'anime di yuki ragazzi pazzesco allora bello peccato per le carte versione banana però il mazzo in sé è carino e c'è anche il pacchetto di sleeve qua dentro che non è male adesso abbiamo gli ultimi due box da spacchettare dovete sapere ragazzi che io ho un'usanza ovvero di tenermi una busta di tutte i box coreani che spacchetto labirinto dell'incubo non ce l'ho labirinto dell'incubo mi manca e allora signori tocca tenere da parte una busta qua un po' di gialloni ho arcera mazones non è male perché il suo effetto è tributi due mostri sul tuo terreno infliggi 1200 danni perché non è male perché come ho già detto c'è il mazzo panda barn che è un mazzo che ti piazza i token o jama per poi iniziare a farti danni se tu ukulei puoi tributare due token o jama per fare danno all'avversario quindi ti ritogli dal campo oltretutto è guerriero e quindi puoi prenderla di rinforzare l'esercito quindi non è male sta carta questa qua è la stessa cosa purtroppo non è guerriero se no sarebbe molto molto forte fa la stessa cosa tributa due ma anziché far danno guadagni 1000 life points oh bellina sta jog super ma guarda qua oh questa è tanta tanta roba ragazzi la jar of greed super molto bella lo spirito delle fiamme lui rimuove un mostro a fuoco dal cimitero lo evochi special nella tua battle phase diventa un 2000 ad attacco quindi carino per picchiare a sangue l'avversario ecco voi una delle carte rappresentanti del formato gotta Kiko il distruttore di spettri super molto molto bello è un 1800 oscurità il suo effetto è che ricountera il mazzo principale l'archetipo principale di gott che è l'archetipo chaos è un floodgate adesso non può bandire carte al cimitero e se fa danno da combattimento gli puoi bandire fino a due mostre al cimitero ultimo box di oggi dark beginning 2 allora vedo già un girai gubo qua davanti interessante il sangan molto bene mi piace avere coppie coreane di queste carte le mie palle quando sborro ha 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 ops buoni tutti questa è una bella lili ultra rara oh questa qua mi manca c'ho una lili che è comune strappata molto molto bene il verme bestiale eccola qua una delle carte più costose in gott perché ha pochissime stampe trappola botola che ad oggi è ovviamente bandita il suo effetto è che quando avversario ha 4 carte in mano tu gli guardi la mano e gli rimetti nel deck un mostro ragazzi io spero che questo unboxing vi sia piaciuto oggi abbiamo trovato robetta come al solito abbiamo spacchettato un po' di roba vintage un po' di roba vintage